ciao a tutti catalogo flash della campagna 17 che va da 15 giugno al 23 giugno 2021 c'è l'avon pride poi c'è questa bella offerta da palette con lo sfumino eccolo qua 21,99 la bellezza va festeggiata sempre perché la bellezza è un fatto di benessere è una coccola bisogna coccolare sempre la pelle come vedete qui i corsi non ci sono i codici perché è un catalogo cliccabile per i clienti ha finito eccoci qua